Sto da cosciente signora, si scolta tutto? Tutto! L'ho vista venire giù, una paura! E la parina frenata, ha girato un po' e ha picchiato una grossa capa. Giornata di lavoro per la protezione civile della comune di Arezzo, impegnata nell'esercitazione denominata Prometheus. Le forze protagoniste assieme al comune sono state tutte le associazioni di volontariato locale perconosciute in ambito di protezione civile che si sono confrontate con due scenari emergenziali. Uno rischio vento perché purtroppo siamo stati interessati piuttosto frequentemente da eventi pesanti dal rischio vento che costituisce nel liberare da dei tronchi un'auto che è stata investita appunto dalla cosa di un tronco con soccorso poi delle persone a bordo. L'altro scenario invece è il solito idrogeologico, dico solito perché purtroppo nel nostro territorio è frequente, come in tante parti d'Italia e oggi si svolgerà presso il canale della Chiana dove facciamo un'esercitazione di pompaggio. Operativa infine per la prima volta l'area polifunzionale di protezione civile allestita come campo base. L'allestimento prevede la cucina da campo, poi abbiamo allestito due tende pneumatiche che possono essere utilizzate in caso di emergenza anche come PMA, quindi come posto medico avanzato. Abbiamo la sala radio operativa che fa anche la segreteria operativa e una tensiostruttura che oggi utilizzeremo come mensa. In caso di emergenza qua nell'arco di 4-5 ore possiamo arrivare ad ospitare ed essere completamente autonomi fino a 100 volontari che poi presteranno soccorso in quelle che saranno le emergenze eventualmente in corse. Sono felicissima che quest'anno per la prima volta viene utilizzata quest'area polifunzionale di protezione civile che funge da campo e base per la gestione logistica dove appunto sono tutti sistemati i mezzi. Questa era un'area che il Comune ha voluto destinare appunto alla protezione civile e ha cambiato la destinazione da poco più di un anno. Grazie.